Cari tifosi del Bari e radioascoltatori di Tanto Non Capirai, da oltre un anno a questa parte vi facciamo compagnia parlando della nostra passione, dei nostri colori, del nostro Bari. Ogni giorno cerchiamo di proporvi sempre nuove notizie, nuovi ospiti, ci seguite in tantissimi e questo ci dà la forza per fare sempre meglio e fare di Tanto Non Capirai ancora di più un appuntamento imperdibile per i tifosi del Bari. A voi tutti, da parte mia, di tutta la redazione dell'altra radio, del sito di orgogliobarese.it e tutti gli utenti di orgogliobarese.it, gli auguri per un buon Natale e felice anno nuovo. E come usiamo a dire in trasmissione, forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tifosi del Bari e amici di Tanto Non Capirai, quello con il nostro programma è diventato un appuntamento praticamente imperdibile per moltissimi di voi. Ci ascoltate veramente in tantissimi, fin dall'anno scorso, la prima stagione del nostro programma e state continuando a farlo anche quest'anno durante la seconda stagione di Tanto Non Capirai. Ci seguite veramente in tanti con grandissima partecipazione, grandissima passione. La stessa passione che ogni giorno cerchiamo di trasmettere a ciascuno di voi attraverso la nostra dedizione, attraverso il nostro lavoro, attraverso la nostra professionalità. Ebbene, quest'oggi siamo qui per augurare a ciascuno di voi e a tutte le vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo. Un anno nuovo che speriamo sia ricco di soddisfazioni per ciascuno di voi, ma soprattutto per il nostro Bari. Quindi non mi resta che salutarvi e rinnovare l'invito a tutti voi a seguire, tanto Non Capirai, anche l'anno prossimo. Un abbraccio e un saluto.